verso la selva dei frati bella giornata oggi vado in bici è piacevole andare in bici guardiamo il panorama oggi che è 5 novembre 2020 sto affrontando l'ascesa vediamo il panorama bene mi soffermo ecco qui mi trovo i piedi del castagneto lancio qui sopra e qui ci troviamo nel bivio nella biforcazione delle strade aspetta per regolare il video perché un grandito grandezza naturale sì allora qui questa è la strada la biforcazione delle strade qui c'è la segnaletica lo specchio per chi sale di qua vedi che magnifico panorama vedi tutto un incrocio di strade qui ci troviamo a via piedimuro piedimuro si via piedimuro si via piedimuro proseguiamo di qua e miriamo l'area fucienza bella oggi è nulla però guardiamo un po questo magnifico muro di proprio